Noi abbiamo necessità che gli imprenditori, che coloro che hanno problemi, che sono avvicinati dalla criminalità organizzata parlino, siano disponibili a individuare e a consentire delle indagini. I processi li stiamo facendo e i processi stanno portando anche a condanne importanti a Verona, a Padova e a Venezia. L'appello del Procuratore della Repubblica di Venezia Bruno Cherchi segue i quattro arresti tre in carcere e uno ai domiciliari con l'accusa di estorsione e usura in concorso con metodo mafioso che chiamano ancora una volta in causa l'organizzazione indranghetista Grande Aracri e il cosiddetto gruppo Bolognino. Un'indagine che a Venezia aveva già portato a 116 anni complessivi di condanna per più di 30 indagati processati con rito abbreviato e a Padova a 77 anni di carcere per il gruppo di testa dell'organizzazione composto da sette persone. Nell'operazione di Carabinieri e Finanza anche diverse perquisizioni nelle province di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza. Le vittime sono imprenditori cui sarebbero stati applicati tassi di interesse anche superiori al 200% all'anno. Purtroppo è la solita emergenza che noi troviamo sempre di più in questa indagine. Si tratta di soggetti imprenditoriali, di imprenditori in crisi che vengono contattati o contattano direttamente questi elementi della società criminale per ottenere dei finanziamenti. I finanziamenti vengono ottenuti però poi si apre un sistema di usura che l'imprenditore non riesce più a seguire con quello che ne segue. Gli arrestati sono Antonio Genesio Mangone, calabrese residente in Emilia Romagna, ex braccio destro dei pluri condannati Michela e Sergio Bolognino, già in carcere a scontare 16 anni e 6 mesi per una lunga serie di estorsioni con metodo mafioso tra Padova, Vicenza e Venezia. Giulio Kuman, 69enne di Schiavon in provincia di Vicenza e il figlio Bernardino, rinchiusi nei carceri di Tolmezzo e Voghera e Shaila Illir, un imprenditore di origini kosovare, residenti a Trevignano in provincia di Treviso. Grazie a tutti.